Ottima prestazione e vittoria di fondamentale importanza in chiave salvezza per l'Arezzo che con pieno merito ha battuto 1-0 in casa il Chievo nella sfida valevole per la ventitresima giornata del campionato di Serie B femminile. La formazione di Mr. Testini ha ritrovato la vittoria dopo due sconfitte di fila, ha ottenuto il quinto successo in stagione, è salita a quota 20 punti ed ha soprattutto portato a tre le lunghezze di vantaggio sulla terz'ultima. Primo tempo equilibrato ma con due importanti occasioni in favore dell'Amaranto. Al ventiquattresimo Bassano si inserisce e trova lo spazio per andare al pallonetto ma calcia sopra la traversa. Ancora più clamorosa la chance costruita in ripartenza al trentatresimo quando Fortunati verticalizza per Bassano che imbuca a sua volta per Razzolini. L'attaccante della CF supera in dribblig Bettineschi ma porta vuota, manda la sfera sul fondo. Decisamente più scoppiettante la ripresa che si apre all'ottavo con il tiro alto da fuori di Alborghetti. L'Arezzo gioca bene e replica il decimo con l'incursione di Razzolini che da buona posizione calcia in modo debole e centrale rendendo facile la parata di Bettineschi. Zazzera ci prova due volte senza inquadrare lo specchio. Al diciannovesimo calcia dalla distanza senza trovare la porta e soprattutto al ventiquattresimo quando dopo una bella galoppata apre troppo il diagonale. La CF premia al ventisettesimo sblocca il risultato al termine di un'azione insistita iniziata sulla destra da Bassano sul cui cross Zazzera fallisce l'appuntamento con la deviazione vincente ma che viene poi trasformata in rete dal meraviglioso destro a giro di Tuteri brava nel trovare il set lontano con una parabola perfetta. Per lei il primo gol in stagione per la squadra di Mister Testini è la rete che vale tre punti d'oro. Il Chievo prova una reazione senza però costruire occasioni vere e proprie ed è semmai l'Arezzo a sfiorare il raddoppio alla mezz'ora quando prima Cagnina e poi Razzolini devono fare i conti con il doppio strepitoso intervento di Bettineschi. Al triplice fischio le Amaranto festeggiano il successo e dopo la sosta si giocheranno il tutto per tutto nei tre scontri diretti con Torres, Trento e Tavagnacco.